Oggi finalmente partirà il cantiere qui di Piazza Giovanni XXIII, è un'opera importante per la città perché la stazione è una delle porte d'ingresso della nostra bellissima Gallarate e quindi è doveroso a parte dell'amministrazione comunale risistemare questa piazza che ormai da 60 anni non viene di fatto riqualificata. Sono lavori importanti, dovremo tagliare delle piante perché sono malate non avrebbe senso lasciarle per poi doverle sostituire tra qualche anno e verranno ripiantate. Il saldo delle piante tagliate rispetto a quelle che ripianteremo è più uno quindi il nostro intendimento non è quello di tagliare le piante ma riqualificare quest'area renderla più luminosa, più sicura e più bella anche per tutte le persone che arrivano qui in stazione quindi io penso che una volta che la piazza sarà completata anche i pochi critici che abbiamo visto ieri sera qui in ben 5 persone che contestano l'opera si dovranno ricredere.